Salve ragazzi e benvenuti in una nuova puntata qua sul canale. Oggi vedremo la filosofia della natura in Hegel. La puntata che vedremo sarà un estratto di una puntata più lunga che uscirà poi tra diversi giorni dedicata all'enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio. Ovviamente io sto editando l'intera puntata ma nel frattempo ti rendo disponibile questa sezione che comunque è una buona sezione dell'intera opera e ti puoi già fare un'idea di che cosa tratterà la puntatona che uscirà tra qualche tempo. Io spero che questo video ti piaccia, ovviamente ricordo che puoi sostenermi con l'iscrizione al canale che è totalmente gratuita con un mi piace o condividendo il mio video così mi aiuti a portare tanti altri contenuti come questo in maniera totalmente gratuita. Ma bando alle ciance e iniziamo. Ma ora direi di passare alla seconda parte della nostra amata enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio che nient'altro è se non la filosofia della natura. Se nella logica eravamo nel regno dell'idea, quindi dell'assoluto trasposto sotto forma di idea, e se abbiamo detto che tutto nel nostro piano esistenziale si deve contraddire prima o poi, cioè si muova attraverso questo movimento dialettico fatto di tesi, antitesi, sintesi, quindi di tesi, contraddizione e poi la sintesi che è la risoluzione di questa contraddizione, beh questa sezione è esattamente il momento della contraddizione della logica, cioè il momento dell'antitesi della logica. Ecco vedete come è sempre molto ponderato Hegel nel descriverci con una precisione geometrica, aritmetica, ogni singolo momento della sua opera. Se infatti il regno della logica è il regno della necessità per eccellenza dove non è ammessa nessuna, potremmo dire, nessuna casualità, nessuna cosa casuale, nessuna cosa che accade a caso, accade nel caos, ma tutto è rigorosamente connesso con rigide leggi logiche, il mondo della natura sembra essere proprio il suo contrario, il regno è dove tutto sembra accadere un po' a caso, appunto il regno della materia, il regno del caos. Natura ovviamente significa un termine molto più ampio, questa è una piccola precisazione che voglio fare, cioè non è la semplice natura intesa come gli alberi, le piante, gli animali come ne intendiamo noi oggi contemporanei. Il termine natura per i filosofi di sempre prima dell'epoca moderna, il termine natura intendiamo tutto ciò che è materia, cioè anche noi, la nostra realtà, il nostro universo inteso come nella sua materialità, cioè anche noi, le nostre azioni, i nostri istinti, ciò che facciamo sono natura e tutto questo stato naturale è in contrapposizione invece a ciò che è immateriale, alla logica, ai nostri pensieri, alle regole della matematica, a ciò che non è istintivo ma è mediato, sono queste due contrapposizioni. La natura si oppone alla logica perché è di per sé astrazione, la logica è un mondo fatto di regole razionali, è fatto di leggi del pensiero, di regole matematiche, ma che nulla hanno a che fare con la materia. Sono delle, potremmo dire, delle leggi dematerializzate. Ma Hegel ci vuole mostrare proprio questo, che gli opposti sono la stessa cosa, che si risolvono nell'unità dell'assoluto. Ma per fare ciò dobbiamo trovare, per così dire, il loro punto di contatto. Tutta questa parte è un po' un attacco di Hegel alla scienza moderna, che vede la natura invece, appunto, proprio come un insieme di cose particolari, senza nessi le une con le altre, appunto, qualcosa che non sa fare altro che dividere, che scindere. Pensiamo anche solo a tutte le scienze particolari che sono nate col positivismo, dopo Hegel, la biologia, la chimica, la geologia. Cioè la natura non è qualcosa che va compresa come un organismo, ma va scissa e studiata come tante cosine una di fianco all'altra. Hegel invece è molto più vicino all'idea panteistica, aristotelica, neoplatonica, di una natura concepita, vista, studiata organicamente, come se fosse un essere vivente. Perché? Perché Hegel vuole trovare dentro questa natura lo spirito assoluto, l'idea, la ragione che tutto contiene in sé. Così esattamente come il corpo umano, potremmo dire, funziona grazie a dei rapporti razionali tra i diversi organi. Anche la natura organo di Hegel funziona grazie a una serie di regole logiche che ne governano le dinamiche. Ma nella storia del pensiero il suo tentativo di voler studiare la natura con strumenti filosofici anziché scientifici fecero di questa sezione un ramo morto della sua filosofia. Infatti, come sappiamo bene, oggi la natura viene analizzata, studiata e approfondita nelle sue branche scientifiche particolari e non c'è nessuna ricerca invece intorno all'idea di una natura come organismo vivente interconnesso. Ma vorrei, a conclusione di questa seconda parte dell'enciclopedia delle scienze filosofiche, vorrei giusto accennare un minuto a quella che forse è una delle grandi contraddizioni del sistema hegeliano, a cui proprio accenniamo in volata. Natura e logica sono, come abbiamo detto, due opposti, ma al contempo, dice Hegel, sono anche la stessa cosa. Ciò in termini concreti significa due cose al contempo inconciliabili però. Se la natura infatti si oppone alla logica, perché sempre lo stesso motivo, la natura è concretezza, la logica è astrattezza, significa che al suo interno, cioè all'interno della natura, le cose accadono per caso, cioè le cose accadono senza logica. Ma invece noi vediamo una logica della natura, vediamo delle dinamiche razionali all'interno del mondo naturale, appunto. Ma se ammettiamo poi che la natura è semplicemente un'esternazione concreta della logica, cioè che alla fine, diciamo, sì, apparentemente sembra contrapposta alla logica, ma poi la natura è un altro modo di concretizzarsi della logica e quindi la natura ha al suo interno alla logica, la natura è fondamentalmente, segue delle leggi logiche, qual è la contraddizione? Che la natura ha un proprio rigore logico e quindi la natura non si sa se, le leggi della natura non si sa se siano caotiche, se siano disordinarie o se siano logiche razionali. Ovviamente questa ambiguità tremarrà sempre nel sistema di Hegel, cioè Hegel non riuscirà mai fondamentalmente a districare questa sezione della logica, perché per lui sarà praticamente impossibile arrivare a capire se la logica, se la natura è qualcosa di logicamente governato e questa qual è la difficoltà? Che dopo tu devi costruire un sistema che sappia giustificare anche come la caduta di un sasso giù per un burrone sia un'azione logicamente interconnessa con tutto ciò che accade nel mondo, nell'universo. E questo è molto difficile potremmo dire. Ma dall'altro lato, quindi, se tu non vuoi ammettere che tutto segue una rigorosa logicità, tu stai ammettendo che la natura sia qualcosa che acc... nella natura ci sono delle cose che accadono a caso. Quindi stai venendo meno a quello che era il tuo proposito iniziale, cioè di dimostrare che il nostro è un sistema totalmente governato da una legge razionale che è la dialettica. Quindi questa contrapposizione sarà sempre qualcosa che Hegel si porterà dietro e che non riuscirà mai a risolvere definitivamente.